Buonasera, grazie di essere qui con noi questa sera e grazie soprattutto al professor Paolo Pileri che è una delle poche persone che si spende tanto e ci dà motivo di conoscere, di approfondire su un argomento che quando ho letto il libro veniva citato, quante volte viene citata la parola suolo dalle riviste e ho letto che nelle riviste principali hanno due citazioni ogni anno, ogni due anni addirittura quindi insignificante, ho capito tante cose che sottintende questo passaggio. Il libro che io mi auguro voi poi acquistiate e regalate è un libro estremamente importante bello da tutti i punti di vista, è molto denso ed è intelligente a partire dalla copertina è uno dei pochi libri, non sempre capita che ha cose interessanti nel risvolto di copertina nella terza e nella quarta pagina, cioè come si dice non si butta via niente, è estremamente importante. E nella quarta pagina di copertina il suolo è bello e vivo è un ecosistema straordinario una vera farmacia a cielo aperto è il suolo è poesia vivente il suolo insomma non è una superficie ma è uno spessore il suolo non solo è intelligente ma soprattutto generoso perché ci dà tutto questo gratuitamente purtroppo è anche molto fragile ed è inerme di fronte alla stupidità e l'avidità di cui lo considera una risorsa da sfruttare e non basta inserire la parola ambiente in costituzione se ogni secondo che passa in Italia vengono distrutti due metri quadrati di suolo e la politica ignora il pensiero ecologico il libro che poi evidentemente il professore ne parlerà in modo diffuso si ha alcune parti il suolo è bello c'è il capitolo che si intitola la nostra stupidità e oggettivamente ne ha ben ragione dove si parla di fragilità e del consumo smodato che abbiamo del suolo però c'è sulla seconda parte che parla del riscatto con queste tre parole manifesto che sono passione i presenti immagino che abbiano tante a partire dal professore ma tutti noi abbiamo questa passione la conoscenza che è estremamente importante perché prendere coscienza vuol dire partire da una conoscenza la cura e c'è una quarta parola che probabilmente ne parleremo stasera è l'astuzia perché ci vuole anche astuzia in tutta questa difesa del suolo e quindi poi ci sono le conclusioni le conclusioni che sono rivolte a tutti noi le conclusioni che sono rivolte anche ai cosiddetti addetti ai lavori non solo solo gli insegnanti ma siamo tutti noi e sono soprattutto anche chi ci amministra gli amministratori adesso io lascerei a lei tutto il tempo che vuole che abbiamo anche la possibilità di proiettare quindi organizzerei così per lei quanto vuole 50 minuti, 40 minuti, 30 minuti quello che ritiene opportuno lei vada poi se ci sono domande di approfondimento di quello che è interessante perché non andrà a esaurire tutto quello che evidentemente è scritto ma a quello rimando poi nel caso quando lo andrete a leggere grazie grazie intanto siamo in una libreria che è una cosa spettacolare già di suo questo è molto bello perché dobbiamo ubriacarci di libri assolutamente di letture perché se no ci asfaltano la testa quindi l'unica cosa per salvarsi è sempre 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 leggere 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 in bagno in sala aspettando l'autobus sempre questo non lo dico perché ci siamo messi d'accordo però veramente quello che a me ha salvato io sono lavorato in ingegneria quindi ingegneri sono non leggono niente non è vero però ovviamente quello che ho imparato le tante cose che ho imparato le poche cose che ho imparato insomma le devo veramente alla curiosità e alla passione di leggere 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 quindi questo è molto importante e questo libro arriva anche dal da anche dalla vabbè io insegno in università in politecnico è chiaro che noi scriviamo certo è il nostro mestiere però molto spesso scriviamo per i nostri colleghi ecco insomma è un circolo una specie di circo sapete che siete andati dal circo non quello degli animali per carità circo normale quello per gli umani che saltano e va e quindi è come se fossimo tutti chiusi lì ognuno scrive per se stesso ora non è proprio così però c'è questo rischio in realtà io mi sono sempre occupato fino a quando ho scelto di fare ingegneria quella che oggi si chiama ingegneria ambientale però pensate io sono ancora laureato straordinariamente una cosa che a me fa impazzire io sono laureato in ingegneria per la difesa del suolo pensate perché a un certo punto l'ingegneria ambientale prima di chiamarsi ingegneria ambientale si chiamava così ingegneria per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale a un certo punto hanno avuto sta botta poi hanno capito che era pericolosa quindi hanno detto no basta facciamo ambientale così non abbiamo sto problema difesa del suolo ma magari si mettono in testa delle cose strane però io sono riuscito a beccare questa da qualche parte non l'ho mai appesa non so manco dove sia devo andarla a cercare però c'è scritto proprio così fantastico tra l'altro civile quindi civile per me da costituzione non civile i costruttori civile capito civile dobbiamo fare una roba civile bellissimo e quindi perché dico questo perché poi così sin da ragazza avevo questo questo questa ossessione questo virus per la questione ambientale chissà erano gli anni anche sì credo che il mio primo voto è stato per il non nucleare una cosa del genere credo abbiamo votato 18 anni e non so perché poi mi è rimasta questa cosa a un certo punto la questione ambientale è una questione di tutti come diremo il suolo di tutti il paesaggio di tutti l'aria che respiriamo di tutti l'acqua di tutti quindi la questione è come è possibile che le conoscenze che noi abbiamo sul suolo rimangano tra noi studiosi non ha senso che me ne faccio cioè quasi autoerotismo adesso non si può dire in questo posto però insomma più o meno una roba del genere allora l'idea è la divulgazione provare a traghettare le questioni dal dal ristretto mondo degli studiosi verso l'enorme e meraviglioso mondo nostro perché poi alla fine noi abbiamo bisogno di questa roba è un po' questa questione di cui poi mi sono occupato da vent'anni che mi occupo di consumo di suolo e se non sono crepato di disperazione è perché poi incontro un sacco di gente con cui scambiamo coraggio e questo è molto bello e io mi ricordo che cominciando a lavorare come ricercatore nelle questioni urbanistiche subito mi hanno detto ma cavolo no fermi tutti qui c'è un problema Houston tra l'altro io il primo anno di università ero indeciso come spesso capita nelle migliori famiglie quindi uscivo dall'ingegneria mi ricordo e attraversavo la strada andavo in via Celoria e seguivo Agraria quindi capito i miei compagni universitari dicono tu sei scemo è probabile poi l'ho fatto per un mese due mesi una roba del genere non chissà quanto poi alla fine felicemente sono tornato su Piazza Leonardo da Vinci però probabilmente questa questione dell'agricoltura questa questione del suolo è una questione che mi ha molto preso e quindi vedevo nel mondo dell'urbanistica vedevo che nei piani urbanisti nei PGT conoscete il PGT piano di governo del territorio perché poi gli urbanisti quindi io siamo incolpevoli noi scriviamo anche delle cose che non si capisce un tubo diciamoci non so chi di voi ha letto il PGT di Vimercate però dovete farvi un po' di male non è che un po' di male dovete anche farvelo ragazzi se no qui non si va avanti quindi provate a leggervi il PGT perché questo è interessante perché se non si capisce un tubo del PGT bisogna anche alzare la mano e dire io non capisco un tubo è il mio diritto a capire tenete conto che il piano urbanistico è lo strumento più strategico che c'è nelle mani di un sindaco di una giunta per trasformare quello che noi abbiamo intorno e pensate che dico sempre che adesso non lo so si tappi le orecchie lei dico sempre che Dio che ha fatto tutto in sette giorni in sei giorni poi si è riposato un giorno una cosa del genere beh secondo me un giornino in più ce lo poteva mettere per occuparsi di urbanistica perché in realtà se ne è dimenticato e quindi cosa è successo? è successo che una roba che lui pensava probabilmente ha sottovalutato adesso ormai non può più tornare indietro non può più tornare un casino se no pensate che il casino succede però è quello di trasformare un'area agricola in un'autostrada e quella roba lì può solamente farla il sindaco può solamente farla il governatore della regione Dio non può farla anche se si mette lì stringe le meningi fa delle cose pazzesche non riesce a trasformare un'area agricola in un capannone questo può farlo il potere politico va bene attraverso i piani urbanistici e però chiacchio se fai questa trasformazione ne va di mezzo poi anche la qualità di tutta la nostra vita quindi com'è possibile che noi non ne sappiamo niente noi non capiamo lo strumento dove tu le scrivi cosa vuoi fare ecco l'urbanistica ha delle parole veramente incomprensibili io per anni ci ho messo a capire per equazione poi delle parole che ti sembrano straordinariamente chiare no? destinazione d'uso tu dici ok quella roba lì e invece un'altra e no com'è possibile io avevo capito che questo era un suolo agricolo come mai adesso diventa un capannone eh ma perché l'indice bim bum bam e quindi è nostro diritto capire esattamente cosa c'è scritto nei piani quindi fatelo perché se non è chiaro tenete conto che oggi i piani dovrebbero anche essere accompagnati da quella che si chiama una valutazione ambientale strategica un'altra parola strategica uno dice cacchio se è strategica no se uno dice lei è strategico vuol dire che lui è l'ultimo a uscire da qua no? non è schettino è l'ultimo a uscire se diciamo che lui è strategico è strategico quindi uno dice la valutazione ambientale è strategica figo cioè una roba capito? e invece zero non fa un conto a un tubo disastro quindi strategico ma poi non conta a un tubo allora la risorsa delle risorse vedete tra l'altro questa immagine qua vedete cos'è quella roba lì? che io non vedo da vicino perché sono cecato cos'è quella roba lì? lo vedete? cos'è? non metto i voti potete dire anche delle robe sbagliate pazienza non lo diciamo nessuno a Natale c'è la possibilità di confessarsi tutti quelli che vogliono e la cosa finisce lì Rabdomante dice uno Rabdomante uno Rabdomante due c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa? a Vimercate ancora siete i Rabdomanti? ah non è così non è possibile cerca e tartuda dal Rabdomante andiamo al tartufo ok no non è né il Rabdomante né il tartufo è una bellissima scena di un film meraviglioso che io proietterai in piazza probabilmente secondo me potrebbe essere una bella idea che è Le mani sulla città 1963 un film meraviglioso Francesco Rosi e questa è una scena emblematica ci sono prima ancora dei titoli iniziali c'è questa discussione tra colui che è un impresario un trasformatore vuole fare la grana vuole trasformare i suoli agricoli in questo caso in palazzi non in tangenziali autostrade stradine ma in palazzi allora cerca di convincere il sindaco cerca di convincere il capo del partito che in quel caso era la DC più o meno ancora oggi siamo incastrati in quella roba lì anche se si chiama in un altro modo e allora insomma per spiegargli che insomma conviene allora prende una bacchetta fa un segno per terra e dice ma cosa può mai valere questo metro quadro qua cosa può mai valere un metro quadro di campagna vi mercate dai su non vale niente ma se ci facciamo sopra una strada ma se ci facciamo un capannone ma se ci facciamo una casa beh insomma è il 5.000 per 1.000 di profitto dice così eh profitto 5.000 per 1.000 capito che i vostri occhi anche il suo che è strategico capito così ma dice porca miseria 5.000 per 1.000 è tanta roba è tanta roba capito e poi a un certo punto dice anche sono delle frasi che a me è sempre molto colpita e chi mai te li può dare tutti questi soldi te li può dare il lavoro dei campi ma sei scemo te li può mai dare è un lavoro in fabbrica ma sei scemo è un casino lui dice ma no investire nell'industria un cassa malattia operai che si incavolano e il sindacato e qui e lì e su e giù ma no costruiamo lascia fare costruiamo tu sei sindaco cambiamo il piano perché il sindaco a un certo punto colto da un barlume di genuità dice ma no ma come il piano urbanistico non lo prevede non prevede che di qua passi un'autostrada ma come possiamo fare ma fa niente organizziamo facciamo cambiamo siamo dio lascia fare abbiamo detto prima lo facciamo e a un certo punto si convincono erano gli anni 60 e quindi lì l'urbanistica era un po' diversa da oggi che la decidono le regioni che è peggio secondo me e quindi erano gli anni 60 a un certo punto si vede in questa seconda scena bellissima andate a vedervelo si vede su youtube se poi se volete quelli che rimangono qua lui e lui i presidenti ce lo vediamo e l'inizio perché sono tre minuti è bellissimo perché a un certo punto c'è questo plastico alla Bruno Vespa in cui c'è questo sindaco di questo comune che dice ai rappresentanti del governo perché all'epoca era il governo che decideva la trasformazione dell'uso dei suori diceva insomma dice abbiamo individuato in un'area a sud della città dove sorge una squallida estensione di terreno e questa è una frase bestiale squallida estensione di terreno ecco questa è la chiave di tutto alla fine è anche la chiave del libro squallida potremmo intitolarlo così squallida estensione di terreno drammaticamente noi abbiamo in mente questa cosa che Francesco Rosi ci dice per noi la terra è una squallida di estensione di terreno che ce ne facciamo anche noi andiamo in macchina e le nostre macchine vanno sull'asfalto facciamo una spesa nelle supermercati e i supermercati sono dei big box al posto dei terreni abbiamo una casa al posto del terreno nessuno di noi chi è che di voi si stende sopra un campo chi ci si stende sopra un pastire e ho detto e vedi e quindi noi non sappiamo che ce ne facciamo del suolo lo vediamo da lontano era una squallida estensione di terreno anni 60 boom edilizio casino non c'era l'urbanistico ognuno faceva quello che voleva più o meno una roba del genere anche Calvino aveva scritto un libro molto bello speculazione edilizia quindi capite che gli artisti capivano che purtroppo cominciava a frantumarsi il pensiero su cos'era la terra stava cominciando a deflagrare fino a quando arriviamo boom oggi che oggi noi non sappiamo neanche più cos'era la terra lui prima ha detto spessore ma chi è che dice spessore per noi il suolo è questa roba qua alla fine vedete in lontananza ci sono degli edifici che arrivano 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 loro ormai non sono più immobili li hanno chiamati immobili ma non è vero si muovono vengono in avanti vengono sempre in avanti è un disastro questa cosa qua e noi consideriamo nei piani urbanistici per quello che vi dico guardatelo che poi i sindaci si arrabbiano con me ovviamente c'è qualche sindaco non l'ho chiesto qualche consigliere comunale che vorrebbe farlo uno un consigliere comunale due due consigliere comunali perfetto perché io ditelo poi perché io dico sempre ma perché non lo scrivete nei piani urbanistici cos'è il suolo è la risorsa che usate ma perché non lo scrivete esattamente cos'è il suolo perché se voi leggete i piani urbanistici nei piani urbanistici il suolo nel piano territoriale della regione Lombardia il suolo è una superficie è una squallida estensione di terreno è una superficie anzi nelle mappe urbanistiche è addirittura bianco che non è il suo colore è giusto d'inverno quando nevica che è bianco nelle mappe è bianco così proprio perdiamo cioè la disgiunzione ci dissociamo da quell'oggetto lì non sappiamo cos'è è bianco è terribile questa roba ecco il suolo non è una superficie la prima questione che davvero va imparata è questa roba qua e a me piacerebbe che di fianco alla foto del Presidente della Repubblica nella sala del Consiglio ce l'avete la foto del Presidente della Repubblica è obbligatoria obbligatoria mi sembra non può metterla viene multato quindi c'è se fosse obbligatoria anche quella del suolo wow sapete che un solo Presidente della Repubblica io sono andato a cercare faccio il ricercatore sono andato a cercare quanti Presidenti della Repubblica hanno parlato di suolo uno in tutta la nostra storia repubblicana Luigi Einaudi 1951 a un certo punto scrive sul Corriere della Sera pensato un Presidente della Repubblica che scrive sul Corriere della Sera ma oggi zero mi spiace per il nostro Sergio ma zero scrive sul Corriere della Sera e scrive esattamente questo che capisce negli anni 50 dopo guerra che sta partendo una ricostruzione ognuno va dove vuole se sei proprietario di un terreno automaticamente hai il diritto a costruire a trasformare fai quello che vuoi lui preoccupato in realtà era un possidente terriero Luigi Naudi in Piemonte bla bla lui preoccupato scrive e scrive proprio questo dice la lotta più dura che attende gli italiani nel futuro sarà quella della tutela del suolo italico wow ho scritto così è bellissima questa frase dopo di lui più nessuno anche quando ci sono i nostri disastri ambientali i cosiddetti disastri ambientali che poi li causiamo noi con i cambiamenti climatici intendiamo come nelle Marche il Torrente Misa non è che ecco e sentiamo purtroppo vari Presidenti dire sempre che si sono disperati giustamente per le vittime ci mancherebbe altro per i disastri ci mancherebbe altro ma mai che sentiamo dire per l'incoscienza per il disastro urbanistico che perpetuiamo in questo paese mai voi l'avete sentito io no non ci faccio caso eh no mai si parla sempre di bombe d'acqua è vero bombe d'acqua io credo che invece siano bombe di cemento adesso che l'acqua arriva poi non trova più un terreno permeabile dove poter andare per i fatti suoi trova invece parcheggi trova supermercati trova urbanizzazioni trova di tutto e l'acqua non infiltrando si scorre va in giro va in giro poi nelle nostre taverne noi ci incazziamo perché il giorno dopo era Natale avevo invitato mia suocera e quindi non può venire meno male e vabbè il suolo è uno spessore questo è il primo concetto importante su cui cerchiamo di batterci il suolo non è una superficie è uno spessore e l'intelligenza del suolo questo titolo che ho rubato a Darwin in realtà ho preso in prestito scusate intanto lui non è andato non è che me lo richiede indietro è uno spessore perché l'altro il concetto che cerchiamo sempre di raccontare è che è uno spessore pieno di vita ecco questa è la cosa che mi piace sempre dire mi piace sempre dire questa cosa che se voi prendete un cucchiaino adesso qua non ce l'abbiamo un cucchiaino mi dimentico sempre ma se voi prendete un cucchiaino ma da caffè non un cucchiaino da minestra ma da caffè e andate dove vogliono fare adesso quella lì quella bretella quella tangenziale quella autostrada breve che poi è lunga ecco e andate lì magari ho visto delle immagini su questi vostri filmati ho visto che ci sono anche delle zone dove ci sono un po' di alberature quindi probabilmente non c'è l'agricoltura che muove tutto quindi un po' quindi un po' un po' più di natura andate lì con il cucchiaino prendete questo cucchiaino scusate prendete un po' di suolo col cucchiaino e guardate così se voi foste tipo uno di quelli chi era quello dei fantastici 4 aveva la vista super super non ce n'era uno che vedeva delle cose incredibili non c'era vabbè un quinto fantastico mo abbiamo quello che sa tutto sui fantastici 4 non lo sapevo e complimenti non c'è vabbè c'era un quinto fantastico e poi alla fine non l'hanno disegnato e li sono dimenticati che invece aveva una vista pazzesca bene se voi foste quel quinto fantastico riuscireste a vedere dentro 9 miliardi di unità di vita in quel cucchiaino pensate l'altro giorno c'era sul giornale che c'era il bimbo numero 8 miliardi quindi noi sul pianeta siamo 8 miliardi di esseri umani devastanti anche se poi abbiamo deciso di chiamarci sapiens ma siamo devastanti e nel cucchiaino c'hai 9 miliardi di unità di vita c'hai batteri c'hai un sacco di protozoi alghe alghe non sono solamente nel mare sono nel suolo il lombricco l'ultima delle cose che fai pure fatica a trovarlo va bene ma prima c'è tutta sta roba qua è tutta una roba che lavora in continuazione non dorme mai anche adesso se voi andate cucchiaino anche di notte non è che dormono li trovate lo stesso e sono importanti faccio sempre il solito esempio di uno di questi batteri tra l'altro noi ne conosciamo pochi più o meno noi conosciamo tra il 3 e il 5% siamo in grado di nominare tra il 3 e il 5% di tutta questa vita qua 15 tonnellate di vita per ogni ettaro un ettaro sono 10.000 metri quadri una tangenzialina sono 40 metri quadri fate un po' i conti di quanta vita c'è e tutto questo più o meno nei primi 30 centimetri di suolo 30 centimetri non 50 70 80 i primi 30 sono quelli importanti bene lì dentro c'è anche un batterio per esempio che si chiama streptomyces streptomyces è importante questo qua pensate che dallo streptomyces io so che c'è qualche medico quindi devo stare attento mi è stato già detto da questo streptomyces è venuta fuori la streptomycina che è un antibiotico quindi uno dei più forti antibiotici probabilmente tutti noi l'abbiamo preso questo antibiotico arriva dalla terra come dire quella roba lì quel suolo che noi pensiamo di poter urbanizzare come se fosse come dire ecco come se con nessuna attenzione quella roba lì è la più grande farmacia che noi abbiamo a disposizione la più grande farmacia gratis credo che qui in libreria adesso che vediamo poi lo verifichiamo ma sicuramente ci sarà e potete comprarlo con sconto anche insieme a questo il sistema periodico di Primo Levi ci sarà sicuramente un libro meraviglioso bellissimo fantastico proprio da strapparsi la pelle e l'ultimo capitolo è dedicato a carbonio e nel ciclo del carbonio il suolo ha un'importanza gigantesca pensate che il suolo è anche un enorme è la banca del carbonio cioè nel senso che una volta che il carbonio entra nel suolo non esce più quindi in realtà come dire il suolo noi poi oggi tecnicamente diciamo che il suolo è l'artefice di una serie di servizi ecosistemici quindi fa delle cose fa tante cose H24 sempre grazie a tutta la vita che c'è quelle 15 tonnellate per ettaro fa tantissime cose di cui noi abbiamo bisogno senza quei 30 centimetri noi non vivremo e queste cose le chiamiamo servizi ecosistemici quindi cos'è grazie al suolo vivono come dire le piante gli alberi anche se la narrazione degli ultimi 10 anni ci sta cercando di convincere che invece se noi abbiamo dei boschi verticali dai su adesso sta cosa del suolo che volete tutto sto suolo se avete degli ampi balconi ci mettete lì un po' di piante e non rompete le scatole e fine anzi addirittura alcuni parlano di idroponico quindi neanche più bisogna della terra un po' di acqua un po' di sali minerali butti dentro e vuoi vedere che i pomodori vengono lo stesso poi san di acqua ma adesso se avete pure la pretesa dei sapori no non va bene che volete la pretesa dei sapori allora questo qui è uno schema importante arriva da una rivista scientifica è fatta da due agronomi quindi che poi sono due pedologi e a un certo punto nel 2009 cominciano a raccontare tutte le cose che fa il suolo e da sinistra appunto vedete lì gli alberi quindi la produzione primaria quella che tecnicamente si chiama produzione primaria e si è importante perché come dicevo grazie a quei funghi grazie a dei batteri dei funghi gli alberi vivono perché in realtà l'apparato radicale va poco lontano rispetto al tronco non è che questi anche se noi vediamo queste radici bellissime ma insomma non è che viaggiano più di tanto e poi queste radici sono 0,2 mm qui non sono neanche tanto fini cioè non è che il suolo è una spugna è molto poroso ma i sali minerali si nascondono di tutti questi micropori ma sono talmente micro che sono molto più piccoli di 0,2 mm va bene e quindi le radici non ci entrano panico e gli alberi come fanno loro le piante a vivere se non possono penetrare capillarmente tutto il suolo e si fanno aiutare è molto semplice fanno un accordo una specie di contratto molto più vantaggioso di quello del PGT molto più vantaggioso fanno un contratto con dei batteri micorridici si chiama una roba del genere e gli danno un po' di glucosa o zuccherino come facciamo anche noi con i bambini piuttosto che che facciamo con i cavalli gli diamo uno zuccherino un po' di glucosa e loro in cambio gli chiediamo un po' di sali minerali funziona così dopodiché non contenti le piante hanno bisogno di catturare sali minerali anche più lontani allora si accordano con dei funghi delle ife fungine dei capelli come se fosse dei capelli molto sottili 20 volte 10 volte 100 volte più piccoli delle 0-2 mm delle radici e queste ife fungine sono dei serpentelli anche lunghi 2 km che vanno a cercare sali minerali ovunque si infilano ovunque e ovviamente anche portano sali minerali alle piante pensate che lavoro che c'è è per quello che è intelligente il suolo e anche le ife fungine cosa chiedono in cambio glucosio ma c'è uno scambio quindi in realtà tutti questi alberi che noi vediamo come dice ma se dai se lo taglio poi ne faccio un altro in realtà è un mondo sotto c'è un mondo più vivo di quello che vediamo sopra è incredibile questa roba ma non è raccontata nei PGT non se ne parla nelle sale consigliari eppure eppure abbiamo delegato il potere politico di fare quello che vogliono del suolo anche se non sanno nulla è bestia è strana questa roba è molto io non posso fare il professore di urbanistica se non faccio una serie di esami e divento professore di urbanistica e devo dire guardate l'urbanistica funziona così se non lo dico posso fare altri mestieri belli fantastici io avrei voluto fare faregname peraltro che è molto bello allora questa roba che è fondamentale quindi il suolo è uno spessore vivo che lavora in simbiosi una parola meravigliosa simbiosi assieme alle piante le piante vivono grazie al suolo questo è importante dopodiché fa un sacco di altre cose vedete quelle frecce che vanno su e giù quelle frecce che vanno su e giù ci dicono che fondamentalmente il suolo i primi sempre i primi quando io dico suolo ragazzi dico ragazzi sono generoso anche con me stesso perché poi se no come facciamo quando dico sempre 30 cm 30 è una spanna un po' più lunga di una spanna un po' meno di quella bottiglia un po' più di questa spanna vabbè 30 cm in 30 cm il suolo accumula una valangata di anilide carbonica un po' perché ve l'ho appena detto le piante cosa fanno fotosintesi quindi acchiappano CO2 si tengono il carbonio cedono l'ossigeno meno male perché se no saremmo già crepati si tengono il carbonio un po' lo usano per fare foglie un po' lo usano per fare tronco ma un po' lo cedono abbiamo appena visto lo cedono giù alle radici che a sua volta lo danno ai batteri che se lo tengono lì in cambio danno solo ai minerali quindi molto carbonio rimane incastrato nel suolo grazie a questo meccanismo e anche ad altri meccanismi pensate tutte le foglie che adesso amiamo prendere uno zaino con un motore e un tubo e buttiamo via ma teoricamente le foglie facevano pacciamatura quindi erano carbonio noi oggi siamo strani siamo sapiens e quindi abbiamo inventato questo motore vuoi non usarlo questo motore l'abbiamo inventato e quindi cacciamo via e dopo abbiamo un problema di rifiuti e vabbè questa è tutta la nostra storia da soli mentre prima tutte queste foglie se ne vanno lì e diventano sostanza organica fondamentale per i suoli così tutti i cadavri pensate a tutti gli insetti che muoiono non ci avete mai pensato sono tanti questi muoiono dove vanno per terra io avevo tenuto nel mio ufficio una mela che si era tutta rinsecchita avevo fatto questo esercizio con gli studenti avevo preso una mela e l'avevo buttata nel parco e poi avevo preso una mela e l'ho tenuto sul davanzale della finestra nel parco dopo un mese due settimane la mela non c'era più va bene non c'era più dopo due anni la mela tutta rinsecchita che sembrava non vi dico cosa ma sembrava era ancora lì sul davanzale in l'interno della mia stanza ancora lì cioè ok quindi per dire ci sono dei cicli naturali per cui quella mela che è sostanza organica che quindi organica vuol dire carbonio torna nel suolo e va ad alimentare tutta quella quella folla di vita che c'è e quindi questo non ci dà problema e non solo non ci dà problema se quella sostanza organica ovvero quel carbonio non andasse lì sotto non si incastrasse lì sotto andrebbe in atmosfera e siccome il carbonio gode come un riccio diciamo delle cose interribili in questo posto non si può e nel legarsi all'ossigeno e quindi a formare il CO2 se quel carbonio venisse liberato dal suolo diventerebbe gas climalterante gas climalterante cambiamento climatico eh sì e questo è un bel casino fate conto che nei primi 30 cm di suolo c'è più o meno una quantità di carbonio sul pianeta che è 4 volte quella che c'è in atmosfera cioè per milioni di anni il suolo si è occupato di 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 andiamo lì con le ruspe andiamo che facciamo un po' di cose i miei colleghi a Napoli che hanno un centro che studia la riemissione del carbonio in atmosfera hanno dimostrato che più o meno quello che tu hai raccolto in un milione di anni nel giro di 30 60 anni torna in atmosfera nel momento in cui vai con la ruspa e comincia ad arieggiare follia ma questa cosa non viene calcolata nelle valutazioni ambientali strategiche ma guarda che terribile nelle valutazioni di impatto ambientale per l'autostrada e questa cosa non viene calcolata e io mi arrabbio scrivo al ministero dico ma come guarda ci sono degli studi ci sono degli articoli perché non le calcolate e non mi rispondono e poi fa anche altre cose allora la regolazione climatica abbiamo detto tutto il cibo il 95% di tutto il nostro cibo è fatto di suolo ora a parte questa sedia di plastica ma già anche questo vetro arriva dal suolo perché polvere di silice polvere di sabbia arriva dal suolo poi cos'altro tutto questo è la ca qui tutto c'è un sacco di roba arriva dal suolo il pavimento questo pavimento arriva dal suolo pensate quanta roba che arriva dal suolo c'è un bellissimo cartone animato se voi andate su globalsoilweek.org vedete che c'è questo questo mino che sta facendo la colazione la mattina e a un certo punto parte ma quanto di quello che c'è intorno arriva dal suolo comincia a sparire l'armadio sparisce capito il quadro che c'ha dietro lui aveva il pigiama gli sparisce il pigiama poi gli spariscono anche le mutande così con la tazza poi gli sparisce anche la tazza sparisce tutto e non rimane senza niente perché tutto molto di quello che noi abbiamo intorno a noi arriva dalla terra non solo il cibo anche questo è un concetto che sarebbe bello raccontare ragazzi raccontare nelle piazze cioè ridare dignità a quella risorsa che noi non chiamiamo risorsa e non chiamiamo nemmeno ecosistema vedete quella bolla lì quella bolla lì vuole ricordare un concetto è fondamentale che ha a che fare con le 15 tonnellate di vita che c'è in ogni ettero la biodiversità la biodiversità è fondamentale se noi non fossimo tutti diversi ma non solo perché voi siete tutti molti più belli di me ma solo perché siamo proprio diversi anche i due gemelli sono diversi va bene geneticamente hanno qualcosa qualche DNA ecco noi covid ci avrebbe fottuto tutti quanti tanto per intenderci invece la nostra diversità ci salva e fate conto che il 30% della biodiversità di tutto il pianeta è lì nei primi 30 centimetri di suolo anche questa è una scoperta pazzesca pazzesca e tutti i suoli non cementificati concorrono a questa biodiversità quindi tutto quello che sto dicendo ovviamente smette di esistere nel momento in cui io applico la mia stupidità vabbè qua ci sono un po' di numeri potremmo dire perché poi nel mio corso io ho un corso che si chiama usi del suolo ed effetti ambientali ma non mi ricordavo nemmeno il corso che tengo usi del suolo ed effetti ambientali quindi questa roba che adesso sto dicendo in breve lo facciamo più lunga perché così gli studenti poi si annoiano e poi arriviamo a un certo punto che facciamo anche tutti gli effetti ambientali del consumo di suolo ora quello di cui sto parlando è il suolo libero meglio se sotto un bosco quello è il top del top il suolo sotto un bosco è il top del top quello proprio è straordinario dopodiché arriva quello dell'agricoltura l'agricoltura non è che proprio ritratti bene i suoli l'agricoltura intensiva industriale quella roba lì dura quella del mais tanto per intenderci dopodiché abbiamo tante altre agricolture sono molto rispettose del suolo il biologico la permacoltura no tillage e poi c'è una serie di pratiche però in ogni caso quando lavoriamo sugli effetti ambientali cominciamo a dire per esempio quante persone mangiano con un ettaro proprio noi in questo paese ce l'abbiamo suolo per tutti eh no non ce l'abbiamo noi nel 2012 avevamo fatto un rapporto avevamo mandato insieme al ministro Catania di allora del governo Monti quindi ormai sono dieci anni drammaticamente sollevando questo problema pensate che con tutti i suoli che abbiamo in Italia riusciamo a dare da mangiare al 70% delle persone che ci sono in Italia pericolosissima affermazione poi qualcuno gli viene in mente di cacciare via qualcuno per carità e amore no va bene senza calcolare il turismo e l'export perché poi tutti noi vogliamo i turisti e l'export se io metto dentro turismo e export questo 70% badabam cade al 50% quindi noi in questo momento siamo in grossa difficoltà e Draghi vi ricordate che Draghi ha preso l'aereo è andato in Ucraina non tanto non posso dire niente perché siamo registrati è andato in Ucraina per adoperarsi perché una nave di grano arrivasse qua no perché noi non ce l'abbiamo c'è poco da fare nel 2003 quando le navi di grano partivano dal Cairo e dal Nord Africa per portare a Genova il grano perché noi facessimo il pane di Altamura perché poi noi usiamo il grano africano per fare il prodotto DOC piano d'Altamura siamo stupefacenti che stupefacenti è sempre qualcosa che ha a che fare con le droghe ma comunque questi sono incazzati hanno detto come noi qua moriamo di fame voi ci portate via il grano perché non abbiamo non abbiamo terra quindi tutta la terra che abbiamo noi dovremmo tenerla lì non fare più nulla non fare più nulla perché nel momento in cui tu asfalti distruggi la terra per sempre distruggi la terra per sempre togli da mangiare a tutti io dico sempre ok a ogni sindaco ti fai i tuoi conti consiglio comunale fatevi i tuoi conti con le terre che noi abbiamo nei mercati quante gente di i mercati sfamiamo che non è uno scherzetto abbiamo proposto io avevo scritto una proposta di legge autosostenibilità alimentare ogni comune si faccia i suoi conti così si prende responsabilità quando decide di fare l'autostrada di dire sì all'autostrada o di non dire no perché è uguale dire sì piuttosto che dire sì al capannone piuttosto che piuttosto che piuttosto che piuttosto che ok ma adesso quante persone in meno mangiano ah ma sono sempre poche perché vedete che qua c'è scritto che l'onnivolo coscienzoso quello che mangia un po' di carne un po' no più o meno un ettaro da da mangiare a 5 6 7 persone secondo che mangiano tanto mangiano poco noi mangiamo tantissimo noi dovremmo mangiare 2000 kilocalorie al giorno ne mangiamo 4 mela le buttiamo via il 23% siamo pazzi buttiamo via il 23% di quello che compriamo pensate che roba dopodiché chiaro che se siamo famelici divoratori di carne purtroppo un ettaro serve lo sapete se c'è una stupidata è mangiare carne poi la mangiamo quasi tutti io cerco di non mangiarla molti di voi sicuramente cercheranno di non mangiarla ma è proprio un'industria folle quella dell'erba lì perché tu devi dare 7 unità di energia alla mucca per poi averne una nel piatto ma chi di voi metterebbe 70 euro in banca per poi quando va a prelevare ne preleva 10 vi incazzereste tutti quanti giusto? ma proprio la rivoluzione di vi mercate giustamente e invece noi no ci piace terribilmente godiamo scodinzoliamo pazzescamente con l'idea che abbiamo una bistecca nel piatto senza renderci conto di qual è la filiera energetica anche in questi giorni ieri ero a Bergamo al festival dei sindaci a Lanci c'era un salone dedicato all'energia e poi erano tutti lì che mangiavano prosciutto no non mettiamo insieme le cose capite? cioè tu devi pompare una valangata di energia per fare il prosciutto se vuoi mangiare non di tanto ok ma se tutti i giorni devi mangiare il panino col prosciutto ma sei pazzo furioso cioè ripeto è come mettere in banca 70 euro e poi guardare l'estratto conto di 10 euro ok va tutto bene no non va tutto bene non cavolo va tutto bene ecco uguale chiaro quindi se noi pretendiamo di mangiare carne ogni due per tre beh sì certo quei 40 ettari di autostrada sfamano appena 40 persone è chiaro ma noi se invece noi arrivassimo addirittura al vegani beh sfamerebbero 450 persone tanta roba 450 persone e comunque anche se fossero 4 persone io partirei dal sindaco eh sì io lo dico sempre si dice ok 4 persone partiamo da te tu non mangi più eh no eh sì mica no perché hai responsabilità per tutti eh sì allora l'autosostenibilità è interessante il primo effetto disastroso della riduzione dei suoli liberi quando vengono quindi cementificati partiamo noi è quello di ridurre la nostra capacità di produzione di cibo per cercare di ridurla iniettiamo nel suolo le peggio cose per aumentare la resa ovviamente no facciamo le peggio cose peraltro già le stiamo facendo nel cremonese nell'odigiano nel pavese dove ormai noi abbiamo estensioni di mais che servono solamente per la zootecnia o per produrre energia che poi abbiamo questa genialata no di prendere il mais metterlo in un in un in un forno diciamo così che lo brucia scusate un digestore che lo fa diventare metano poi usiamo il metano lo mettiamo in un in un motore e generiamo energia ovviamente questa catena è una catena di cadute di rendimenti pazzeschi ma a noi ci piace quindi un suolo che anziché produrre cibo produce a basso rendimento energia ma lo chiamiamo biomassa come dire bio un'altra manomissione di parole vabbè insomma quindi questo suolo vedete il suolo agricolo ha 57 tonnellate di carbonio per ogni ettaro il suolo forestato arriva a 90 se moltiplicate per 366 avete più o meno la quantità di CO2 che non va in atmosfera va bene il peso molecolare della CO2 è un sacco di roba e così potremmo andare avanti ad esempio queste qui sono l'acqua più o meno fate conto che un ettaro pensate un ettaro un ettaro 10.000 metri quadri un ettaro arriva a trattenere quasi 4 milioni 3.7 milioni di litri di acqua tanta roba ci sono 150 tir di acqua un ettaro quindi 40 si fa la moltiplicazione è una spugna il suolo è pazzesco quindi pensate ogni volta che noi abbiamo qui alluvioni che abbiamo qui casini con l'acqua e paghiamo spesa pubblica quando noi al tre giornale sentiamo dichiarato lo stato di emergenza vabbè noi poi cambiamo canale ma quando diciamo dichiarato lo stato di emergenza è grana sono soldi perché la protezione civile si attiva arrivano qua aiutano fanno brigano sono soldi quando poi diciamo addirittura lo stato di calamità quello là proprio il MIPAF il ministero dell'agricoltura che pam allunga soldi immediatamente agli agricoltori pensate che roba e noi non ci rendiamo conto è spesa pubblica è tutta spesa pubblica nel momento in cui la natura non riesce a fare più il suo lavoro perché noi l'abbiamo disturbata ed è bellissimo gli agronomi parlano di suoli disturbati e dobbiamo intervenire noi spendendo un sacco di soldi più o meno ogni anno esce ieri ero Bergamo a ricordarlo un po' ai sindaci che noi abbiamo questa roba qua che si chiama rapporto nazionale sul consumo di suolo adesso ho finito il rapporto nazionale sul consumo di suolo ogni anno viene pubblicato c'è un gruppo a Roma all'agenzia del governo italiano non è che l'agenzia dell'oratorio di V-mercate con tutto rispetto che lo sono bravisi fanno dei rapporti pazzeschi però a Roma c'è l'agenzia ambientale nazionale che ogni anno fa un rapporto lo mette online gratis te lo scarichi te lo vedi è scritto bene perché lo scrivo anch'io quindi è scritto benissimo e bla 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 e tu sai anche a V-mercate quanto suolo consumano pensa che roba quindi sai come vanno le cose sai tutto ma nessuno lo scarica nessuno lo legge disastro e qui scopriresti anche che per esempio un suolo libero se noi dovessimo a me stringe un po' sempre il cuore perché per me alcuni servizi ecosistemici anzi tutti i servizi ecosistemici sono impagabili però per far contenti quelli che invece gli piace andare in giro sempre con l'idea della grana un po' a livello internazionale si fa lo sforzo anche a livello e anche in Italia di trasformare i servizi ecosistemici in euro quindi dice vabbè ma quanto può valere il fatto che il suolo tiene in vita le piante 100? 100 euro? 100 euro all'anno? 200? e qui c'è un'asta no ci sono degli studi in realtà insomma alla fine siamo arrivati a dire che un ettaro di suolo 10.000 metri quadri di suolo boscato perfetto sano tutto quello che volete quella roba lì per tutti i servizi che ci fa l'acqua l'aria tutte quelle cose che abbiamo visto un po' non le abbiamo viste ma pazienza ha un equivalente di beneficio per ogni anno di 80.000 euro tanta roba un ettaro cioè noi dovremmo renderci conto che tutti i terreni liberi che sono qui intorno producono dei servizi dal cibo che valgono 80.000 euro all'ettaro 80.000 euro all'ettaro all'anno se noi lo asfaltiamo vale zero e noi dobbiamo metterci 80.000 euro dovremmo metterci ogni anno per poter compensare quello che il suolo non fa più ovviamente non lo facciamo non lo facciamo ci mettiamo nemmeno 8.000 euro e anche gli oneri di urbanizzazione che i comuni prendono li prendono una tantum prendono dei soldi quando decidono di trasformare i terreni ma poi i danni rimangono per sempre è certo che rimangono per sempre e con quei soldi che prendi una volta sola non compensi tutti i danni che si genereranno un disastro quindi va in perdita perdita la comunità perdono tutti però si continua a fare eppure c'è scritto nel rapporto del governo italiano c'è scritto queste cifre andate a vederle c'è scritto così e noi continuiamo questa regione poi guardate in Italia addirittura durante covid è aumentato del 22% il consumo di suolo è follia cioè mentre noi eravamo tutti a casa chiusi con le mascherine i bavagli disperati e moriva la gente di covid mio zio tanto per tutti noi più o meno più o meno vicino lontano abbiamo avuto qualche pasticcio di questo tipo tutto era fermo quasi tutto era fermo in realtà la cementificazione è andata avanti non si è mica fermata le cave di marmo l'altro giorno era a Massa Carrara il comitato disperato ma perché le cave di marmo hanno avuto un'accelerazione di estrazione che non avete idea sino agli anni 80 all'inizio degli anni 90 prendevano due blocchi a settimana un blocco sono 25 tonnellate oggi arrivano a 5-6 blocchi al giorno per ogni cava ci sono un migliaio di cave ci sono delle montagne che sono abbassate nel giro di 6-7 anni di 80 metri ma vi rendete conto? cioè è chiaro che da Sapiens noi stiamo facendo delle cose ci stiamo ingrovigliando di autostradio per arrivare qua non ho capito che strada ho fatta non ho capito ho capito a un certo punto ho detto vabbè seguo te navigatore ma io non lo so che cosa ho fatto non mi ha fatto fare la tangenziale mi ha fatto fare altre robe ho detto adesso mi annodo su me stesso e non esco più non arrivo più perché continuo a girare girare e girare così prendi la rotonda delta la terza la quarta la quinta una volta quante uscite ci sono da una rotonda non tante ecco facciamo delle cose pazzesche e le abbiamo fatte anche durante il covid quindi fate conto che in Italia abbiamo più di 2 metri lui prima diceva 2 metri quadrati al secondo oggi noi siamo abbiamo sfondato il 2 metri e siamo a 2.2 che il punto 2 vuol dire il 10% rispetto al 2 poi in realtà è un po' di più del 10% che era un po' di meno il 2 la regione Lombardia la regione Lombardia sapete che è super figo la regione Lombardia è sempre la prima e a volte così anche per generosità verso le regioni amiche c'è stato qualche anno che è stata la seconda perché ha detto al Veneto vabbè vai vai avanti tu vai avanti tu per questa volta dai fai tu il numero uno del consumo di suolo però da qualche anno già da due anni ha deciso la regione Lombardia di riprendersi la sua posizione quindi ogni anno fa fuori 883 ettari 883 ettari sono una valangata sono una valangata noi siamo più o meno il secondo credo il secondo a volte primo consumatore in Europa non abbiamo una legge di tutela dei suoli non ce l'abbiamo non abbiamo la regione Lombardia come la regione Piemonte come la regione Veneto come la regione Emilia Romagna così siamo anche Bipartisan hanno una legge di tutela dei suoli che loro dicono se sono autodetti i consiglieri la giunta quello che è si è autodetta che è di tutela dei suoli ma non lo è non lo è parlano di bilancio ecologico dicendo che bilancio ecologico dicendo che se tu cementifichi un ettero ma ne scopri scopri un altro ettero capito voi andate in un parcheggio che lì da 40 anni che parcheggio sotto c'è la morte non c'è più un batterio non c'è niente va bene neanche le cimici vanno lì sotto che vanno a fare lì sotto le cimici sto fuori è meglio neanche le cimici sono lì sotto se tu ti rivi a quel parcheggio invece cementifichi un bel suolo capito forestato un bel suolo agricolo ecco la regione Lombardia nella legge scrive che bilancio ecologico uguale a zero non ci sono stati consumi di suolo follia ma è scritto nella legge e nessuno si è lamentato ecco perché noi abbiamo bisogno secondo me e finisco di crescere nella consapevolezza diceva bene lui prima nella consapevolezza ma cos'è quella roba che abbiamo sotto i piedi cos'è quella roba lì perché poi quando ci fanno le leggi non ci accorgiamo voi vi siete accorti nel 2014 il 28 novembre del 2014 hanno fatto una legge disperata dove c'è scritto che il bilancio ecologico io ho scritto ma che cavolo scrivete bilancio ecologico guardate che no 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 l'ecologia è un'altra roba non c'è scritto neanche bilancio ambientale ecologico cioè ecologico vuol dire vita morte ma che stai dicendo è legge io ho scritto anche in consiglieri regionali di opposizione che da 40 anni che fanno l'opposizione si vede che prenderanno anche del tè non lo so cosa fanno ma noi l'abbiamo detto l'avete sentito l'avete sentito io non ho in cos'è il 2014 sono 8 anni io non ho mai visto nessun sindaco incatenato al cancele prima il pirellone adesso c'è un'altra roba ma sempre cancele ci sono per incatenarsi ce n'è di spazio ma non c'è nessuno che sia incatenato per questa roba quindi è chiaro che vanno avanti vanno avanti è disastroso e qui ci sono dei dati anche poi ve li potete vedere i dati ma ci sono dei dati pazzeschi anche in questo caso le province anche su quel è il suolo consumato pro capite vabbè Monza-Brianza ce n'è anche poco perché sono tanti abitanti ma per esempio ci sono delle Mantova 611 metri quadri per ogni abitante che c'è a Mantova ma se io dovessi come i miei colleghi in Germania stanno cominciando mi dicono ogni tanto che in Germania si sta cominciando a dire ma aspetta un attimo tutti liberi volete consumare il suolo consumatelo ma la tassazione ora ce la facciamo così che la tassazione pubblica la misuriamo sul suolo consumato eh sì volete fare l'autostrada allora fate non c'è problema pagate di più eh sì perché se noi dobbiamo tutta la comunità ridursi i servizi ecosistemici perché tu vuoi costruire eh beh allora facciamo così che la tassazione qua costa di più eh sì perché alla fine se i cittadini non capiscono che il consumo di suolo vuol dire mettere le mani in tasche i cittadini e glielo facciamo capire in un altro modo cioè o capiamo cos'è il valore ecologico dei nostri ecosistemi e capiamo che da loro dipendiamo e facciamo mille serate una volta sul suolo una volta sul bosco una volta non so su cosa e facciamo capire a chi scrive le leggi scrive i piani prende le decisioni non prende le decisioni che è responsabile uguale facciamo capire che non è che siamo qua addormentati ma come dice il papa quando cerco di rifarmi bisogna fare chiasso ha scritto così chiasso era una parola che non si usava da anni ma è una parola ma vuol dire incazzatevi incazzatevi bisogna fare chiasso eh sì la lodato sì è splendida ma chi la legge io intanto interrogo i preti anche se non li frequento mai ma qualcuno lo becco la lodato sì pensate la seconda risorsa più importante è il suolo della lodato sì ma è dove magari avessimo avuto dal 2015 a oggi piene le chiese di discussione sulla lodato sì purtroppo non le abbiamo avute invece è un testo meraviglioso disastroso e così ah no queste qua le ho prese dai vostri filmati qui c'è un problema chiaramente no no non c'è un problema sapete cos'è questa roba qua ah lo sapete sapete perché qua e adesso c'è un po' tra le olimpiadi il PNRR perché poi questo PNRR sapete cos'è il PNRR il piano nazionale ma cos'è questa resilienza cos'è questa resilienza c'è qualcuno che sa dire cosa è la resilienza dai l'adattamento beh insomma l'adattamento capito ma come se qui ci fosse una grande puzza di cacca e noi ci dobbiamo adattare ma anche no no l'adattamento non va bene no cioè non so come se ho il vetri rotto a casa fa freddo mi devo adattare ma anche no non hai detto che sia l'adattamento è preparato lei come si chiama Paolo e beh chiaro e si capisce mi chiamo Paolo si chiama Paolo eravamo d'accordo esattamente la capacità di recupero cioè capito uno quindi se io prendo il suolo e ci butto dentro della benzina lui dopo due giorni invece si recupera no il suolo non è resiliente non è una non è nemmeno una risorsa rinnovabile il suolo è proprio sfigato potremmo dire perché non è rinnovabile innanzitutto prendiamo se trovo questa immagine eccola qua questa l'hanno fatta i miei studenti bellissima non è rinnovabile perché è lentissimo rigenerarsi è proprio per crescere il suolo ci mette 500 anni 2,5 cm e quindi già questa è una fregatura cioè proprio mentre l'acqua ha una capacità di rinnovamento bestiale velocissima il suolo no quindi e questo è un enorme problema 1 2 la resilienza è un bellissimo concetto vedete Paolo come l'ha detto chiaro ma cosa fai Paolo tu da una vita? ah e beh hai capito c'è il trucco c'è il trucco ecco si capisce ecco allora la resilienza è esattamente questa cosa qui la capacità io per spiegare ai miei studenti cosa è la resilienza dico sempre prendete un cuscino di gomma piuma gli date un pugno e lui torna è vero nella forma tipo il cuscino pam e lui torna nella forma gli dai un altro pugno e torna nella forma e guarda come resilienza il cuscino di gomma piuma è proprio la cosa più resiliente che c'è è incredibile il problema è che la resilienza ci ha anche abituato a concentrarci sul cuscino e non sul pugno e questa è la fregatura ma noi continuiamo a dare pugni perché tanto è resiliente e no non va bene questa cosa noi non dobbiamo dare pugni anche se lui torna come prima cioè anche la resilienza è tanto interessante quanto una fregatura un alibi cioè una roba resiliente allora noi ci possiamo fare la pipì sopra ma anche no quindi anche sto piano di ripresa di resilienza che poi la resilienza ce l'ha messa perché così fa un po' green ma di resilienza ci c'entra anche poco perché fate conto che il 27% dei 220 miliardi di euro sono per fare alta velocità e strade e autostrade quindi di che cosa stiamo parlando una valangata di consumo di suolo e tutti i muti tranne uno straordinariamente un mese fa il direttore dell'agenzia ambientale Campana che poi noi ce l'abbiamo Campana non lombarda di limercate Campana ha detto signori miei ma guardate che con tutte le opere che ci sono nel PNRR ci sarà un disastroso consumo di suolo credo che adesso non faccia più il direttore della temo che non lo faccia più grandissimo coraggio perché tutti noi chi di noi si è eletto il PNRR si è eletto veramente cioè ha fatto due conti e ha detto questo è un disastro ma veramente un disastro tra questo disastro c'è un sacco di soldi per fare strade autostrade quindi tutta quella roba che era nei cassetti che si era fermata che non andava bam è tornata immediatamente possibile poi ci metti anche le olimpiadi perché vuoi non andarti a vedere le olimpiadi partendo dal vimercato è comodo 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 prendendo e dai se non arrivi due minuti dopo metti che lo slettino è già partito e non l'hai visto quindi devi arrivare per tempo e quindi vuoi non fare un'autostrada per le olimpiadi anche qua lo dico perché mezzo miliardo di euro viene speso da questa regione per fare una tangenziale a Bormio che finisce in un cimitero davvero eh giuro perché sono andato a Bormio a vedere questa cosa è terribile 500 milioni di euro la regione ha tirato fuori prendendo un po' dal PNRR per fare una tangenziale a Bormio non è l'unico campo che c'è rimasto tra il versante un'azienda agricola e di fatto tutta l'urbanizzazione di Bormio non so se conoscete Bormio c'è una piana che si chiama Piana della Lute va bene che è rimasta indenne va quindi questo è disastroso quindi lo scenario è purtroppo quello e che noi poco sappiamo dire su cosa ce ne facciamo di questa roba il nostro punto debole molto spesso come comunità è che riusciamo a dire poco cos'è quella roba lì qui dobbiamo attrezzarci qui dobbiamo cominciare a mettere dei cartelli per dire quella roba lì non vale solo perché c'è l'agricoltore che c'è tanta roba ma vale perché produce ossigeno ma vale perché allora cominciare a questo è molto importante fare chiasso non vuol dire solamente ma ovviamente questa cosa attenzione patichiare amicizia lunga non è che se non fanno la tangenziale qua ma la fanno di sopra vabbè noi ce ne andiamo a casa e stappiamo lo champagne eh no dobbiamo andare a aiutare quelli di sopra e incazzarsi eh no perché se no questo è un pasticcio cioè i suoli ovunque vengono disturbati creano problemi anche a noi qua anche se vengono disturbati a Bormio questa è un'altra questione ecosistemica che dobbiamo capire no che non è ambientale ecosistemica e questo è molto importante e qui bisogna un po' si trovano sul libro un po' si trovano su questo rapporto che vi dicevo di Ispra sul consumo di suolo trovare quegli strumenti per rendere anche le per rendere anche le nostre ragioni guardate qua il buco nero della regione Lombardia per rendere le nostre ragioni più più basate sui numeri che non sulle parole questo è importante credo io me la sono sempre cavata in questo modo non è che io non voglio il consumo di suolo perché sono perché è così non è perché mi sveglio la mattina perché produce un problema produce una spesa pubblica che è di x euro più o meno fate conto che solamente per l'incapacità di drenare l'acqua un suolo cementificato dovrebbe costare circa 6.500 euro all'anno per ettaro solamente la parte acqua poi abbiamo detto 80.000 euro tutto il resto ma solo la parte acqua pensate che roba e che chi ce li mette la regione Lombardia darà a vi mercate 6.500 euro per 40 ettari per sempre non credo non so se i consiglieri comunali sanno di questa cosa io non credo che la regione Lombardia vi abbia detto non vi preoccupate noi adesso firmiamo qui l'accordo solamente per il danno che accadrà per la mancata capacità di drenare le acque e noi vi diamo 6.500 per 40 quanto fa se è difficile da fare 7 per 4 28 cioè se vi consiglio se ci sono 280 milioni di euro ogni anno non ho 28 milioni di euro non li daranno mai ovviamente ecco quindi da qui l'intelligenza del suolo capito? cioè dire attenzione questa roba è intelligente noi purtroppo non siamo così intelligenti disastrosamente anche se ci chiamiamo sapiens io mi fermerai qua perché ho detto un sacco di cose e non voglio eh questo qua per esempio qua queste qua sono ah sì queste qua sono le immagini qua sono dovuto scappare sì sì sono dovuto scappare perché sono andato a Cortina l'anno scorso a fare le foto perché c'erano i mondiali di sci allora sono andato l'estate a ottobre non mi ricordo quando sono stato un po' prima e sono andato a vedere come stavano preparando le piste da sci poi noi quando le vediamo in televisione vediamo tutto bianco no? quindi però eh eh quindi anche movimentare quei 30 centimetri cominci a muovere fare brigare movimenti terra no? che non piacciono solo l'andrangheta piacciono anche a quelli che fanno la piste da sci piacciono anche a quelli tanti piacciono i movimenti terra ma sono disastrosi perché ovviamente qui distruggono tutto quindi prima di ricostituirsi tutto quel tessuto di vita dentro quei suoli ci passano anni 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 io sono andato a fare queste foto e mi hanno rincorso perché non potevo fare foto ma io non posso fare foto il paesaggio non posso fare foto ma figurati se non posso fare foto posso fare foto sì no chi le ha mandate ma io sono venuto cioè con le jeep ma rincorso davvero non è uno scherzo ma vabbè è per dire ecco questi sono tutti e poi c'è tutta la logistica e poi oggi mi è arrivata perché ogni qui ci sono anche tutti le statistiche di consumo di suolo nei parchi noi consumiamo suolo anche nei parchi anche in Lombardia nonostante abbiamo i parchi noi ci mentifichiamo nei parchi tanto ci mentifichiamo nelle aree a pericolosità idraulica noi abbiamo una mappatura in Italia di tutte le aree che sappiamo che ogni anno si inondano si chiamano aree ad ad elevata pericolosità idraulica la pericolosità è una frequenza è una probabilità quindi c'è già una mappatura tu sai già da sindaco che lì no cazzo eppure urbanizzi ma come è possibile è incredibile e noi ogni anno con l'agenzia nazionale purtroppo rileviamo e anche in Lombardia guardate se voi andate nella riga della Lombardia dove è Lombardia 16.3 ettari sono stati consumati l'anno scorso 16.3 degli 883 nelle aree all'elevata pericolosità lì è sicuro che noi cittadini paghiamo ma proprio guardate sicuro lei come ti chiami? lei e sabbè metti la parte dei soldi di già e si è perché Greta si incazzava per quello ma io non voglio mettere da parte dei soldi perché tu oggi mi stai costruendo in area all'elevata pericolosità idraulica elevata capisci incredibile frane frane abbiamo statistiche che ci dicono che noi costruiamo le zone di frana ma è così è incredibile ecco i numeri sono importanti oggi mi è arrivata una una lettera che alcuni consiglieri pensate alcuni consiglieri regionali pochi del Molise hanno scritto si sono appellati a Sergio Mattarella vedremo cosa dirà perché in Molise come adesso faranno anche le altre regioni anche la Lombardia sono sicuro come farà l'Emilia Romagna come farà la Toscana tutte con questa ansia dell'energia stanno derogando da quelle poche regioni che avevano fatto delle norme per cui non si mettevano i pantelli solari sui campi agricoli in Molise credo che abbia già trovato il via a 2000 ettari una roba del genere di 2000 ettari di solare disastrosa questa cosa qua quando poi hai già aree dismesse hai tetti di capannone hai aree contaminate hai discariche hai una valangata di posti dove potresti appoggiare questa roba ma ovviamente è più costoso ovviamente è così è più facile andare in giro come mi stanno raccontando alcune persone che conosco nel sud della Lombardia all'Odigiano Cremonese c'è in giro gente che va in giro con le borse con dentro i rotoli di banconote per comprare terreni incredibile per fare business energetico e noi siamo tutti come dire abbiamo bisogno dell'energia ogni sera vediamo che cavolo tolgono la luce in Ucraina se tolgono la luce è un casino per tutti noi il riscaldamento quindi è chiaro che questa cosa ci mette in crisi questo è un altro problema perché è una lotta tra due sostenibilità l'autostrada neanche ma qui addirittura è una lotta tra due sostenibilità l'energia rinnovabile o il suolo fertile ma io dico ma perché cazzo dobbiamo discutere tra due sostenibilità ma se vogliamo fare l'energia rinnovabile facciamolo sulle aree non sostenibili non ho capito ma costa di più quando metti la grana prima della sostenibilità la sostenibilità come dice giustamente c'è un passaggio bellissimo dallo dato sì fighissimo chi dice no io non ci casco e non ci cascate nemmeno voi sulla sostenibilità è scritto così quello che conta è la capacità di rigenerazione delle risorse non la sostenibilità sostenibilità è una roba che ci diciamo tra di noi per cavarcela sempre tipo il cuscino di gomma piuma quello che conta è la capacità di rigenerazione delle risorse se il suolo ci mette due mila anni per dieci centimetri non si rigenera uguale non toccarlo e questo è un altro disastro vabbè ce la caviamo con questa chiusura di questa donna straordinaria che è Margherita di Orsenar che diceva questa frase bellissima dentro questo libro bellissimo e qui ci sarà anche memoria di Adriano perché è impossibile che una libreria se una libreria non ha memoria di Adriano chiudetela con la catena non si può più entrare la mattina quelle loro arrivano e non si apre come mai e l'abbiamo chiusa perché non meriti di tenerti aperto perché non si può non avere un libro così bellissimo è una roba se non l'avete letto leggetelo perché veramente ti cambia la vita e tra le tante cose che ci sono scritte c'è questa bellissima pagina in cui Adriano era indignato del fatto che i proprietari di Terreri non coltivassero la terra quando c'era della gente che moriva di fame e allora a un certo punto fa questo editto e dice basta se dopo 5 anni questi qua non coltivano la terra la sequestro funzione sociale della proprietà privata articolo 42 della Costituzione italiana peraltro quindi e per convincere dice questa cosa qua la dice nessuno ha diritto di trattare la terra come l'avaro e il suo gruzzolo d'oro bestiale ciao basta quanto tempo quanto tempo ci abbiamo messo tanto bene adesso ci sono le domande i video i balli pronti allora sicuramente non è come c'è identificarli questo è sicuro ci sono due tipologie in questo momento ci sono due grandi famiglie di occupazione di suolo per pannelli solari i pannelli solari a terra quindi proprio vengono messi a terra e quindi produci solo energia oppure c'è l'agro fotovoltaico quindi i pannelli sono messi più in alto c'è una struttura reticolare fondamentalmente che tiene i pannelli più in alto quindi tendenzialmente tu potresti andare sotto anche con delle macchine agricole poi non si capisce se con i strattori attuali o no questo è ancora un po' incasinato e quindi puoi immaginare alcune colture c'è molta incertezza su questo perché non si capisce poi quali colture non subiscono troppo la mancanza di sole perché se metti i pannelli è evidente che non arriva il sole però se li metti così li metti cos'ha li metti un po' di sole arriva un po' di qua un po' di su quindi ci potrebbero essere delle colture il dramma è quanto costerà all'agricoltura che in questo momento ti distrugge anche una siepe piccola così perché oggi i meccanismi di produzione sono molto intensivi e per la rendita dell'agricoltura non bisogna avere nessuna siepe nessun albero in campo figurati quando tu hai 3.000 pilastrini di 3.000 agri fotovoltaico cosa succederà questo non sappiamo sicuramente è reversibile questa questione rispetto a come dire al consumo di suolo tradizionale ci sono però già degli studi che dicono che non ricevendo luce e calore i suoli comunque vengono alterati nel loro meccanismo ecosistemico quindi non sappiamo in questo momento quale sarà il danno biogeochimico dei suoli anche sottoposti all'agri fotovoltaico è certo che non produrranno cibo come lo producono oggi il fotovoltaico a terra non produrrà più cibo quindi noi sicuramente avremo una riduzione della produzione alimentare quindi sicuramente la permeabilità diminuisce perché comunque la permeabilità diminuisce perché viene canalizzata viene concentrata di solito i pannelli le aree pannellate vengono tutte recintate quindi anche la mobilità della fauna viene inibita quindi ci sono una serie di problemi che non vengono elencati ancora tutti oggi ma ci sono perché se voi vedete i campi fotovoltaici sono tutti recintati per sicurezza di colui del proprietario degli impianti per n ragioni quindi questo vuol dire che gli animali non possono più muoversi quindi è un problema e quindi sicuramente non è come asfaltare ma non è indenne da effetti ambientali che si dica dopodiché anche questo in questo momento anche gli investimenti che si stanno facendo non comprendono lo smantellamento quindi quando finirà il ciclo di vita del pannello vedremo se quello che toglierà si rimetterà a fare poi quando si rimetterà dopo 20 anni che è un terreno che comunque attenzione se non fai in questo momento gli stanno trattando chimicamente i terreni che sono coi pannelli in aderenza perché ovviamente non è che possiamo pensare di star lì tutti i giorni a sfalciare a fare a brigare butti dentro della roba e ciao quindi hai dei terreni che comunque saranno inquinati l'agricoltura non è santa intendiamoci rispetto al suolo domandavo so che esistono delle classifiche che vengono ogni tanto pubblicate e di merito al benessere di città e di stati in queste classifiche in maniera che si tenono in un punto in un altro sull'editazione di città di città di città e di città di città non si potrebbe nelle classifiche tenere conto di questo alto suolo per cui ogni anno fare queste classifiche con le città e quindi tenendo conto anche di questo operamento mettendolo dentro sarei che un'immagine forte certo che si potrebbe fare non deve convincere me perché non è convincere me certo che si potrebbe fare assolutamente ci sono delle classifiche su questo pensate che c'è un dispositivo che si chiama Agenda 2030 quindi le Nazioni Unite hanno buttato lì nel 2015 questo strumento questi 17 grandi obiettivi di sostenibilità dietro i quali ce ne sono altrettanti fino a 169 obiettivi su cui teoricamente noi dovremmo misurarci ecco l'Italia non sta facendo un tuo c'è anche l'alleanza sullo sviluppo sostenibile che è l'organismo deputato ad applicare l'Agenda 2030 in Italia di cui io in parte faccio parte non fa un tubo cioè non fa quello che dovrebbe fare perché l'Agenda 2030 dov'è? chi la conosce? chi la vede? eppure fa un rapporto c'è un rapporto se andate a vedere asvis.it c'è un rapporto che viene fatto ogni anno e peraltro il gol numero 15 è quello che ha a che fare con la vita sulla terra ovvero il suolo ed è il gol in cui siamo più deficitari più incasinati quindi teoricamente già oggi tu puoi vedere il guai che succede che la regione Lombardia non fa la sua Agenda 2030 la regione Marche non fa la sua Agenda 2030 e poi il comune di Milano non fa la sua Agenda 2030 e poi il comune di Vimercato non sa manco che ha l'Agenda 2030 e poi quando fanno l'Agenda 2030 siccome noi tutte le cose più importanti le facciamo volontarie volontarie anche nella scelta degli obiettivi errorissimo come se io dovessi dire alle mie figlie bravissime adesso dico alle mie figlie per non fare gaffe su nessuno dire vabbè guarda scegli tu la materia in cui vuoi essere brava il resto fa niente e che volete che sceglierà la ginnastica mia figlia era molto brava giocava a calcio faceva delle cose pazzesche chiaro che lì prendeva sempre 9-10 ma non è che hai 8 materie su 8 devi essere brava punto e fine ecco non su alcune l'Agenda 2030 in questo momento è un dispositivo volontario quindi ogni pensate è terribile è il vero casino quindi ogni comune ogni regione ogni soggetto che vuole applicare l'Agenda 2030 sceglie quali obiettivi quindi se io sono carente non lo scelgo scelgo parità di genere che sono ancora più carente però magari racconto qualcosa che non so faccio lo sconto al cinema per le donne quindi automaticamente divento straordinario certo che si potrebbe fare ma non si fa e noi peraltro lo chiediamo poco intendiamoci ecco perché anche la nostra politica noi abbiamo i politici che sono abbastanza adesso non so dire se preparati o no però insomma le questioni sociali anche noi le frequentiamo molto di più tutti noi andiamo in ospedale tutti noi siamo andati a scuola quando ci arrivano i nostri figli torniamo a scuola quando ci arrivano i nostri nipoti torniamo a scuola quindi sappiamo molto di cose sociali quando siamo in macchina dobbiamo posteggiare se c'è se le macchine se c'è il traffico cioè tutto il mondo delle cose del benessere delle cose sociali noi lo frequentiamo anche se non lo conosciamo tecnicamente lo percepiamo ma il suolo la qualità dell'aria qualcosa sappiamo ma quanto incide gli aumenti di temperatura sulla produttività agricola che cazzo non sappiamo niente quindi è chiaro che il pensiero ecologico la consapevolezza ambientale che purtroppo anche le scuole da questo punto di vista anche se hanno fatto passi a giganti sono carenti fate conto che l'educazione civica nelle nostre scuole sono 33 ore all'anno su 16 argomenti credo tra questi 16 c'è l'agenda 2030 e ciao statemi bene fatevi due conti vuol dire che fai se va bene dice ai ragazzi esiste l'agenda 2030 ok adesso dobbiamo parlare della parità di genere che cosa hanno capito niente la parità di genere è al pari dell'agenda 2030 nelle 33 ore all'anno che c'è qualche insegnante qua 16-8 argomenti non mi ricordo quanti siano follia no è così follia queste varie riforme scolastiche ma dove sono le proteste degli insegnanti scusi anche la mia per carità chi mai di noi è andato in piazza indignandosi di questa roba qua nessuno quindi siamo un disangelo cioè anche noi dobbiamo un pochettino come dice il Papa fare chiasso come dice John Rockström che ha scritto questo bellissimo libro che sicuramente la libreria adesso per Natale si procura che si chiama Grande Mondo Piccolo Planipianeta è un libro bellissimo fantastico lui dice tra le dieci cose più importanti da fare è aprire gli occhi non c'è più tempo ed è vero è così non è che voglio essere pessimista rompipalle però è così dobbiamo da questo punto di vista siccome è la dimensione ecologica non c'è tempo non c'è spazio nelle nostre scuole e purtroppo anche i nostri insegnanti fanno fatica perché dovrebbero la loro volta essere aggiornati e nessuno gli fa l'aggiornamento è un casino e dobbiamo prendere noi le maniche tirarsene su e fare c'è inizia da fare io ho ricordato questo libro conosco il libro questo libro che scrive su altra economia esatto lui è uno sponsor mi sembra di capire che è la base della nostra vita noi dipendiamo da questi 30 centimetri di suolo ricchi di miliardi di piccole catture che noi catturiamo ogni giorno non diamo nessuna importanza e tantomeno che è un'importanza quello che ci soffica questo spessore che sono le piante di fiori di arbusti di verno questo è un discorso proprio della nostra specie l'uomo sapiens sapiens l'uomo si è dato a questa si perché un sapiens non bastava uno solo due e beh insomma come Paolo Paolo ho presentato in questa libreria un bellissimo di scaglione da dire scaglione che si chiamava Idioti come il dinosaurio peggio di il dinosaurio cioè voi sapete che 65 milioni fa arrivò questo meteorite nello yucat all'area tutta la vita più distrutta ma i nostri comportamenti comportamenti del cosiddetto homo sapiens sapiens negli ultimi 12 mila anni diciamo dalla nascita della rettatura ma in particolare negli ultimi per sempre sono veramente i peggi del peggio che l'uomo potesse fare non rispettando l'ambiente non conoscendo l'ambiente perché il fatto di non conoscere poi facciamo i disastri i grandi disastri li facciamo perché non li conosciamo noi non conosciamo il suolo noi non conosciamo le piante noi non conosciamo il valore che fanno le piante nel ciclo del carbonio dell'azorto dell'acqua di tutto quanto e questa è una responsabilità collettiva che noi abbiamo io da da settanta che mi occupo di queste questione quindi sono un vecchio diciamo vecchio ambientalista ma ancora oggi vedo che c'è molta ignoranza ignoranza nel senso di non conoscere però ci attiviamo ci attiviamo perché adesso c'è la vera montana la tratta di breve e quindi dobbiamo muoverci perché distruggerà 400.000 metri quadri di terreno distruggerà torzioni di bosco ma speriamo che non lo faccia sì noi naturalmente siamo pronti ma quello che io mi chiedo sempre vediamo quando arriva il disastro questo capita io sono chiamato ogni giorno mi arrivano almeno tre richieste questo capita purtroppo no? questo capita è così d'altronde noi ci curiamo quando ci ammaliamo noi andiamo dal dentista quando ci fanno male i denti siamo così siamo così purtroppo no? quindi chiaro che bisogna prevenire quindi chiaramente bisogna prevenire per esempio sicuramente allora io sono sono anche quello che si è inventato la ciclovia vento Venezia Torino va bene è che tutti pensano che capito io vado a letto con la bici cioè proprio capito sarà di quelli che se non vanno in bici almeno sette volte alla settimana proprio stanno male invece sto benissimo anche se non vado perché l'idea un'altra delle questioni che forse è un po' covida un po' sviluppato spero è che noi veramente siamo rinchiusi nelle nostre auto nelle nostre case nelle nostre scuole nei nostri uffici magari in libreria e cioè e quindi viviamo poco gli esterni quindi al di là dell'ignoranza che è vero ci mancano alcune cose possiamo fare elenco dei difetti per prima l'università va bene e è anche vero che noi frequentiamo poco i paesaggi che ci sono attorno cioè i sentieri non sappiamo meno dove sono allora l'idea della ciclabilità nella mia testa non è tanto l'idea perché capito devo stare col culo sul sellino e farmi 50 km per 10 giorni poi non riesco più a sedermi su una sedia non è questo non è perché devo far vedere che ho la bicicletta più bella degli altri ma è per riportare le persone ad andare fuori lentamente capito e riaccorgersi che c'è una bellissima c'è un bellissimo libro che si chiama Poesie come ossigeno ossigeno come poesia una roba la poesia dell'ossigeno di Chiara Anedda a un certo punto c'è una poesia molto bella che dice non alberi ma aceri platani faggi cioè e questo è molto bello cioè anche reimparare il nome delle cose e questo lo si fa frequentandole allora ho capito che ma figurati mia nonna che era di Albignano D'Adda andava a Cassano lungo la muzza ci andava a piedi capito ecco mio nonno andava a Trucazzano in bicicletta e quindi per i campi quindi sapeva tutti è chiaro che aveva una relazione con i paesaggi che oggi noi non abbiamo più quindi è chiaro che ci passano ci asfaltano come dicono i ragazzi sì certo quindi l'idea anche di investire sui ciclabili l'idea di investire sui sentieri non è un'idea solamente velleitaria perché adesso wow dopo covid tutti camminiamo ma sarebbe davvero una grande scuola all'aria aperta anche capito riportare i ragazzi con i miei studenti tento di andare in bicicletta adesso non si può aprire mille minchiate burocratiche quindi adesso sono registrato non si può neanche dire quello che faccio anche a miseria per nove mesi ho percorso i 20 milioni di chilometri quadrati di territorio di mercato la posizione sono 20 milioni e 700 milioni mentre quadri e così è pronto fuori come fuori con l'arve in agosto infatti il censimento non si è andato all'arve di mercato nessuno può immaginarsi la varietà delle piante degli arbusti delle erbe dei fiori che ci sono di mercato battendo ogni singolo sentiero in mercato abbiamo 30 km di sentieri i cosiddetti le murattiere intercomune interne poderali poderali sì quello che è è stata un'esperienza bellissima a di mercato abbiamo 126 mila tra alberi e arbusti il comune di mercato e sei volte gli abitanti sì cinque volte bestiale ogni abitante di mercato ha cinque piante a testa cinque piante a testa che non è troppo ma è monenarietà qualcuno dice magari sono pochi no? comunque niente l'unico modo per conoscere e amare le piante questo spessore di e quello di frequentarlo di di conoscere di distruirsi di sì anche fare delle azioni un po' sovversive cioè del tipo no? se voi andate in consiglio comunale se andate in consiglio comunale cioè andate in consiglio comunale ogni tanto nessuno va in consiglio comunale solo i consiglieri poveretti si annoieranno anche senza pubblico andate un po' in consiglio comunale e portate una zona di terra cioè andate lì tac e buttate in una zona di terra è bellissima questa cosa no? e magari interrogate anche i consiglieri dice ma cos'è questa cosa? magari poi l'usciere vi fa si incazza però anche fare delle cose sovversive innocenti intendiamoci no? ecco secondo me sono interessanti una volta l'avevo fatto con i sindaci c'è una riunione dei sindaci che mi hanno invitato sono andato lì con una zona di terra panico ma fa niente ma con la zona di terra è divertente deve in giro con la zona di terra è bellissimo no però non si parla che chiaramente non sembra che ci sono tutti no ma non d'accordo e vi ringrazio della sua esposizione perché effettivamente l'esposizione è fatta cerca sempre fare diciamo così il bilancio di quello che puoi da un minore punto deve fare perché c'è da tanto gente che si mette più la vuole che si mette più le nuove che ci sono i bambini quindi c'è un equilibrio che va avvenuto e ancora però dobbiamo pensare se va a guardare il suo allora se il lesbio è solo che conservato che il loro bilanese non è anzio che parlano del lesbio del loro è andato il fatto che non è che ci si diventa felici però però che parlava del TGP è il TGP nel quale oggi la rinmercata il consumo di suolo è sul 40-300 compresi suolo urbanizzato compresi i bambini dopodiché l'amico osservatore che ha fatto quello che ha uscito e che è appassionatissimo però abbiamo invitato il commissione usiliare il presidente a entrare questa roba censimento esattamente proiettando anche delle positive purtroppo però i presenti nel punto sono vero o uno o due o quante siano sicuramente dobbiamo fare un'azione diciamo più di puntativa e adesso che abbiamo un problema grosso quello che tratta di breve che è una foglia che è una foglia che ha fatto sì perché i mercati è nel tutto il sac perché se la partagione si ferma dove si ferma la tendenziale è che già si la fanno la città ma perlomeno è coperta e non raccontano qui le fatiche del 90 91 92 per cercare di fare una roba di genere e noi diamo un traccio che a mezzo che ci sia ci riempirà e quella tra lì qualcuno dice che si può ampliare davvero politico certamente la fatica che si è fatta in tutti questi decenni per preservare diciamo così la parte agricola che adesso è effettiva dal fatto a riconoscere il pane che viene poi da altri quiz conosco conosco è effettivamente un'oltraggio al territorio che nel suo piccolo buco difficoltà le cose che è stato e sui quali siamo chiamati per riflettere c'è evidentemente un grosso ramare per sperare che non se ne faccia nulla di quella roba lì perché è anche pensato dal punto di vista del dell'utilizzo che forse abbaccia ancora alla data e quindi da 4 però va bene anche da prima anche dal punto di vista del punto di vista taglia si distrugge quello che a fatica pur per difficoltà siamo chiesti a conservare un minimo un minimo di territorio che è generata insomma non è qualificato anche le agenze per te per te quelle che devono dire c'era c'era se hai parlato prima di cindaci poi non c'è perché a qualche 200 miliardi per certo domino sarebbe un po' ha fatto benissimo mi ha fatto benissimo ora la questione dell'autostrada è particolarmente dolorosa perché poi voglio dire in questo paese sapete che l'Italia è il primo paese in Europa per numero di auto per abitante abbiamo 670 auto ogni 1000 abitanti compreso i bambini pure quello del sindaco e gli anziani che non guidano più cioè 670 auto cioè è follia qui al nord ne abbiamo molti di più in Val d'Aosta hanno 1787 auto ogni 1000 abitanti non so dove cacchio la mettano ma è così allora è evidente che abbiamo anche un problema di decongestionare la nostra mobilità cioè se noi continuiamo a costruire strade e autostrade continueremo a usare auto su auto su auto e non è che siamo più smart se sono elettriche siamo più pirla se siamo elettriche cioè non cambia niente cioè il problema è che noi dobbiamo diminuire l'uso dell'auto e investire nelle linee del ferro che abbiamo va bene questo è fondamentale questo è disastroso oltre al fatto che l'altra cosa disastrosa è quello che ci cresce intorno all'autostrada attenzione perché noi stiamo facendo proprio anch'io come ricerca anche con gli studenti di tesi di laurea adesso stiamo facendo sulla prebemi la prebemi è diventata un disastro cioè tutti i comuni uno dopo l'altro hanno cominciato a immaginare di destinare enormi porzioni di terreno alla logistica cioè il che vuol dire che ci sono come dire i riempiti di debiti perché poi devi tenere in ordine tutte le strade secondarie che non te le paga la regione non te le paga nessuno te le devi pagare tu per i primi 4 anni te le paga la logistica di turno perché ti offre nel contratto pubblico privato che si fa con i comuni ti offre il fatto che ti asfalta le cose ti fa la rotonda e ti rimette a posto anche i cessi dell'asilo tu sei contento wow che bello ma dopo finiti i primi 2 anni 3 anni 4 anni che i camion ti hanno devastato tutto e dopo di metterle a posto tu e sono 3 metti a posto come adesso cominciano ad arrivarmi un po' di lamentazione diciamo aveva ragione aveva ragione c'hai lì quelli della logistica che si piazzano nel tuo ufficio da sindaco e non se ne vanno più e non è divertente e non è divertente intendiamoci non è divertente allora dopo i sindaci capiscono cacchio porca vacca ecco attenzione che questa cosa qua cioè andate a vedere adesso mi viene sempre in mente il comune di Covo come uno dice ma dove è sto Covo andate a vedere il comune di Covo da niente è diventato una roba folla questo qui è il comune di Broni anche lì nel sud della Lombardia sono aumentate nel sud della Lombardia i terreni costano molto meno che qua molto meno che qua quindi la logistica wow si è proprio sbizzarrita adesso vi faccio sempre vedere il caso di Broni perché dove vedete lì la logistica la logistica si è piazzata sopra la via francigena ma davvero giuro cioè incredibile tu arrivi c'è il cancello e dici no fine i pellegrini cioè noi capito poteva essere un'enorme opportunità per costruire lavoro per per cioè il cammino di Santiago politiche pubbliche cioè ripeto io nell'altra mia vita mi occupo esattamente di turismo lento ho scritto un altro libro che si chiama Progettare la lentezza va bene e siamo andati a studiare in Spagna cioè questi piccoli comuni come V Mercate ma in Spagna vivono di questo se hanno una via medievale che li attraversa ma cioè si fa un accordo c'è una regia pubblica molto chiara c'è la regione Galizia che è la regione Lombardia che ha fatto un accordo un bellissimo piano di rigenerazione dei comuni soldi che vengono dati ai comuni per rimettere a posto la piazza no tipo la chiesa di Santo Stefano che avete voi bellissima fantastica il dietro stavo dicendo una parolaccia il dietro però non può essere un parcheggio no per dire come si fa a fare un parcheggio lì allora la regione ti dà i soldi perché tu sei su questa via medievale e i peregrini quando arrivano dicono che bello non posso avere il parcheggio allora ti danno i soldi però ti dicono anche caro mio tu sei su una via medievale logistica non la fai eh no perché se scegli un modello non puoi scegliere anche un altro e questo è l'accordo ecco perché noi poi andiamo a farci il cammino di Santiago diciamo ma che bello ma che bei comuni ma che bravi ma dietro c'è una regia pubblica c'è un'idea c'è una visione c'è un desiderci che imparano a lavorare assieme capito e oggi noi anche politicamente non lo so voi non vi conosco però io vedo che i sindaci non chiedono niente io dico ma lei ha chiesto in regione Lombardia che sei sulla via degli abati hai chiesto che non ti facessero la logistica ah no eh vabbè altri comuni nell'oltrepopavese l'anno scorso due anni fa pensate hanno fatto hanno dato si sono praticamente venduti al campionato mondiale di Enduro Cross promettendo a tutti i sindaci sono stati muti perché quattro barlafusse eh tanto eh sono andati lì a dirgli ma no se facciamo il campionato mondiale quei soldi appalate non si sono visti i soldi si è vista devastazione perché poi tutti sono venuti a fare le prove va bene quindi avevi sulle vie medievali la gente che passava a 80 all'ora e come dire su una ruota sola perché poi quando c'è l'asfalto no sei figo sei maccio sei hai la moto cioè per due mesi l'oltrepopavese è stato un disastro ma non è che i sindaci dell'Abrianze sono indignati per questa roba e hanno nessuno dice niente quindi c'è anche una frammentazione amministrativa un egoismo amministrativo che non ho mai visto è una velocità di disfaccimento dei territori che non è quella di un tempo perché oggi in un'autostrada te la fanno anche noi ci lamentiamo sempre lentamente ma ti disfano tutto e quindi cioè quindi è molto complicata la questione poi voglio vedere se i comuni che ci sono su questa tratta decideranno zero consumo di suolo agli svincoli figurati riceveranno pressioni quelli che saranno i proprietari andranno al sindaco gli smetteranno tutti i giorni a rompergli le balle perché vorranno che otterranno il cambiamento d'uso dei suoli e quindi avrete pure il capannone wow non faccio tutta la domanda perché ha veramente illustrato la domanda e la domanda di tutti i giorni e la scelta e la scelta di scuola e io sono uno dei tanti indignati qua nella scelta di presa che è lontana e però a lei c'è la punta di utilismo ecco per fortuna ci sono dei paesi come la spagna che sembrano avere politiche insomma di riportazione dei territori e non di devastazione però penso tutti i sinistenti perché stanno al nostro paese io quello che vedo non ho ancora 50 anni ma lo ricordo bene andando per dieci a lavorare in una zona del milanese come ho visto modificarsi il territorio come ho visto modificare come ho visto c'è identificare il mondo delle tratte stradarie a parte le nuove strade di più per term ma ho visto c'è identificare in modo veramente che non vengono con logistiche che poi rimane in modo che i luoghi lo sappiamo quindi purtroppo devo constatare che non vuoi far con l'inca però anche il sfido quale comune in Brianzo o comunque del milanese non ha del peccato in questi termini io nel mio territorio c'è libertà e ne hanno visto qui ho visto questo lo vedo ancora sono abbastanza curioso del fatto che è rispetto a tanti altri comuni ha mantenuto delle vede c'è di però vedo ho visto per esempio l'ultimo esempio è stata la bananina che 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 è stata la bananina però anche lì inesplicabilmente si è costruito nell'altra il strato nuovo la nuova strada e quello che ci viene quindi la fascia alberico alberato circondata è stata la bananina che 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 non lasciare 1,2,3 riconastri a lungo consumo della persona che è stata passeggiata a tipo speciale è un peccato è un vizio capitale che andiamo continuamente nel sangue e non riusciamo a trasmettere di generazione in generazione perché io vedo che quando il titolo già si parlava di queste tematiche della scuola è possibile che adesso quei granità che sono gli animistratori dei nostri territori facciano le stesse cagate scusate che facendo i nostri genitori i nostri nonni quando negli anni 60 per prendevano di questo livello di tutto scuolino che non è rimasto per il punto economico e basta ma che non è solo per il punto economico dobbiamo capire il posto di fare la ragione del cervello delle scuole che queste logiche sono scusate da vicende basta cioè non possiamo ci identificare così ma io posso aggiungere una cosa un po' di tempo fa l'esperienza di un paesino sud di Milano però domanda non sono sicuro Cassinette di Lugagnano no però domanda è vero che è riuscito a mantenere diciamo l'economia comunale senza chiedere senza avere soldi da l'economia di organizzazione c'è la parte è ancora che è vero che è ancora così è vero che i due dei confini di guerra è riuscito a fare questo ho capito la domanda la domanda se c'è Cassinette di Lugagnano non so se ce la farò ancora allora Cassinette di Lugagnano allora Cassinette di Lugagnano allora innanzitutto avete capito che il gioco qual è il gioco dell'urbanistica è che il comune nel momento in cui concede di poter costruire in cassa dei soldi due voci costo di costruzione quindi una tassa una tantua in base al valore della costruzione che è stata realizzata e poi degli oneri di urbanizzazione ovvero dei soldi che vengono dati dal comune legittimamente oppure degli accordi che si fanno con il costruttore per provvedere a fare delle opere che dalle strade e parcheggio ovviamente aumentando l'urbanizzato aumenta la necessità di spazi pubblici di servizi pubblici quindi questa roba in parte è pagata da chi costruisce allora quindi il dramma è che per molti anni attraverso una legge voluta da Berlusconi poi non cancellata dal governo Prodi poi non cancellata quindi voglio dire destra sinistra è successo che questi anni di urbanizzazione che andavano a finire in un capitolo vincolato alla realizzazione di opere pubbliche è stato svincolato e poteva essere usato dagli amministratori per fare qualsiasi cosa anche la sagra della porchetta come è stato fatto peraltro in Toscana è stato così è stato così per dieci anni ma che poi voi non l'abbiate fatto è un conto ma che si potesse no mi dispiace e andavo in spesa corrente ma guardi guardi ma no ma questo non l'avrete fatto voi va benissimo però si poteva fare perché abbiamo casi e casi allora detto questo in ogni caso è anche dubbioso per le manutenzioni come è anche dubbioso per le opere pubbliche per quanto mi riguarda ma detto questo Cassinetta di Lugagnano quindi è chiaro che molto spesso i comuni che non ricevono i fondi di funzionamento adeguati a che insomma si ritrovano nei casini molto spesso hanno ceduto all'urbanizzazione per incassare qualcosa detto questo Cassinetta di Lugagnano ha fatto una scelta antelittera quindi stiamo parlando ormai di 15 anni fa credo ormai già 15 anni fa di dire ok no quindi è stato fatto un patto con i cittadini pochi cittadini perché è un piccolo comune e il patto è molto semplice ragazzi il suolo è importante quindi tutti abbiamo capito il suolo è importante quindi non si costruisce ma dobbiamo però recuperare soldi quindi si aumenta l'Imu quindi è stata aumentata l'Imu intendiamoci quindi è stato fatto un accordo con i cittadini di buona amministrazione quindi si è detto ok non si costruisce in automatico si aumenta l'Imu e questa cosa ha funzionato chiaramente poi c'è tutto un lavoro da fare di attenzione alla spesa pubblica di mettersi lì da buoni amministratori ma anche da buoni cittadini insieme perché non è che si fa le cose solamente come sindaco o come assessore ma anche che i cittadini ci devono mettere il loro ovviamente questo è stato possibile questo è stato possibile io ho parlato io ho parlato con una persona che cambia infatti c'è parte di un comune che è apparentemente sano e diceva io per avere di studiare il potere di soldi di usare per la possibilità in qualche maniera concedere portata di usare perché costruire su delle zone già costruite più costruose non c'è una legge non c'è un sistema non c'è qualcosa che renda favorevole la costruzione su parte di usare questo certo e questo è il ragionamento proprio come dire terra terra per usare un termine di suolo sempre però è così vero è che però innanzitutto non c'è stata una sollevazione né da parte degli urbanisti così mi metto anche io in gioco né da parte delle forze politiche per chiedere che questa situazione cambiasse